In collaborazione con Val Sugana, Val di Fiemme, Paganella Schi Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni Seconda parte di S4, il tuo show di Sportador.tv, il canale televisivo dedicato allo sport, alle vacanze e al turismo Puntata questa tutta dedicata all'odore e alla montagna estiva Con tre amici che ci sono venuti qui a trovare i nostri studi di Milano per parlare delle prossime vacanze estive Con Flavio Del Vai, della Val di Fiemme, Marisa Giacomuzzi, sempre della Val di Fiemme La bellissima Francesca Clementale della Paganella Abbiamo presentato come saranno gli eventi e la stagione nella Paganella e nella Val di Fiemme Tanti eventi, tante attività o dorme, in Val di Fiemme si mangiano anche bene Quindi parliamo anche della gastronomia, avete il famoso formaggio e non solo Si mangia bene, si mangia bene e si beve anche bene Perché abbiamo visto la parte eno, abbiamo visto tutti quei terrazzamenti 700 km di terrazzamenti di vignette Nella Val di Cembra, mentre anche la Val di Fiemme per quanto riguarda le produzioni Sia di formaggio, di formaggio caprino, di formaggio diciamo di malga Abbiamo poi i salumi, abbiamo il Masolo Speche che ormai è un marchio affermato in Italia e all'estero Noi abbiamo la pasta fatta con l'acqua dell'Atemar, quindi con l'acqua pure dell'Atemar Il pastificio Felicetti fa una produzione di pasta che diciamo invade e porta la Val di Fiemme sulle tavole di quasi tutto il mondo Diciamo che poi ritornando nel mio mondo, cioè quello degli impianti di risalita E riaglacciandomi alla card che prima è stata illustrata da Marisa Ecco, la card ha fatto sì che tanti tanti ospiti venissano in quota Grazie anche alle condizioni sicuramente favorevoli in ogni società E quindi anche i ristoratori, tutti i servizi in particolare Ma in particolare anche la ristorazione in quota Anche in estate dà il meglio di sé In inverno diciamo l'affluenza, naturalmente i numeri sono più grandi Ma anche in estate i numeri sono diventati tanto interessanti E quindi in ogni stazione, in ogni diciamo sia sul lato del Lago Rai, sia sul lato dell'Atemar, sia sull'Alpelusia Ci sono dei ristoranti che possono veramente vantare una cucina di primo ordine Ecco, offrendo poi piatti tipici e specialità Avete anche degli chef stellati E specialità anche a chilometro zero Avete anche degli chef stellati Alessandro Gilmozzi insomma ha fatto scuola E quindi ha creato in questi anni uno spirito di emulazione Perché quando diciamo si raggiunge un'eccellenza Anche quelli che sono un po' dietro vogliono guardare e guardano in alto E quindi direi che proprio uno dei settori che si è maggiormente sviluppato nella nostra valle È un po' la ristorazione Tanto c'è da fare, però tanto è stato fatto Ecco, e quindi sia con i piatti a chilometro zero Sia con i piatti diciamo della cucina internazionale Ecco, siamo sicuramente molto ben proiezionati Quindi riuscite ad abbinare un'offerta gastronomica della Val di Fiemme Con i prodotti tipici del territorio Pasta, formaggi, specche Non solo con l'offerta dei vini Degli spumanti della Val di Sembra Quindi prodotti a chilometro zero Queste immagini parlano da solo E quindi siamo autonomi Ecco, in un mondo diciamo isolato Potremmo sopravvivere Una magnifica comunità In Val di Fiemme si gestiscono territorio da mille anni quasi Quindi ci sarà un motivo, giusto? E per quello siete apprezzati molto dei tanti turisti stranieri che vengono Sì, ma anche dai tanti amici italiani Insomma, che ci frequentano sia in estate che in inverno E trovano diciamo una famiglia Ecco, trovano una valle sicuramente ospitale Perché diciamo nella nostra valle Si vive tutto l'anno Abbiamo una popolazione importante Chiaramente piccolina Perché i nostri paesi sono di dimensioni piccole Ecco, però sicuramente è entrare un po' a contatto con noi A contatto con le nostre usanze e con le nostre famiglie In effetti mi piace precisare una cosa Perché in Val di Fiemme, come tutte le località turistico montane Hanno la parte invernale dedicata all'oscino La parte estiva dedicata all'odore e al trekking Ma in Val di Fiemme ci sono delle realtà economiche, industriali importanti Ne parliamo spesso nelle nostre puntate Di aziende di gastronomia, di produzioni sportive, di terminalismo Insomma, quindi aziende importanti di costruzione Non solo, ci sono i giochi olimpici Milano-Cortina del 1996 Il 30% delle medaglie verrà aggiudicato in Val di Fiemme E ci sono imprese del territorio che stanno facendo i nuovi impianti di Milano-Cortina E questo fa onore al territorio Grazie Flavio e Marisa Allora, spostiamoci pochi chilometri e andiamo sulla Paganella Allora, la Francesca ci ha raccontato quanto è bella la Paganella Il panorama, il bike park E non solo le offerte che fate per i disabili Non solo, ma voi avete un bellissimo lago Il lago di Molveno è un'offerta outdoor importante Siete facilmente raggiungibili in due ore da Milano Da tutte le città più importanti del nord Italia Se arrivano alla Paganella per godersi le bellezze del territorio O montagna ma anche lago e non solo Esatto, il lago di Molveno è bellissimo E chi l'ha visto non può negarlo Perché ha dei colori che sono davvero un verde smeraldo Alle cime del Brenta che si specchiano nelle acque E è stato premiato più volte come il lago più bello d'Italia Allora, le Gambiente e il Touring Club italiano hanno voluto segnare questo premio Perché sta a confermare ancora una volta l'ottima gestione del territorio Che c'è stata sull'alto piano della Paganella Il lago di Molveno è premiato grazie alla purezza delle proprie acque E della natura che lo circonda Infatti è proprio nel parco naturale da Mello Brenta Un'area protetta dal 1968 Proprio per preservare la ricchezza della flora e della fauna del territorio Ma il lago di Molveno è anche, come dicevamo prima Un posto ideale per organizzare degli eventi Abbiamo già avuto nel corso della prima era degli eventi Perché possiamo dire che l'apertura degli impianti di risalita È cambiata notevolmente nel corso degli anni Allora da anni in Trentino si parla di destagionalizzare Quindi di creare maggiori flussi di persone anche nei periodi di bassa stagione E possiamo dire che l'alto piano della Paganella Ha sicuramente raggiunto dei numeri importanti anche fuori stagione Pensate che gli impianti della Paganella hanno chiuso il 2 di aprile Quindi subito dopo la Pasqua E il 20 di aprile avevamo già i bike park aperti Con un lavoro incredibile da parte dei nostri costruttori di trail Perché hanno dovuto addirittura sparare la neve Per fare in modo che i bikers potessero accedere ai trail Questo per noi è un successo raggiunto Perché? Perché i rifugi hanno delle stagioni ormai lunghissime Tengono aperto praticamente tutto l'anno Così come gli impianti di risalita Abbiamo visto lì poco prima le bocchette e la ferrata delle acule Quindi siamo con il parapendio sopra il lago di Molveno Dicevo, luogo ideale per eventi Tant'è che a fine maggio, inizio giugno Iniziamo con il bike opening Un altro evento family di bike family E poi proseguiamo con il family festival L'evento all'occhiello per tutte le famiglie Dolomiti Paganella Family Festival Ormai è la ventesima edizione Ha sempre più successo E ha conosciuto tutte le famiglie che vengono E vivono il territorio Quindi i bambini, le bambine coltivano l'orto Fanno delle sessioni di bagni della foresta L'ormai famoso forest bathing All'interno del parco del respiro di fai della Paganella Dove si può praticare uno sport un po' più soft Un trekking più soft Con tante attività olistiche Perché è importante questo parco? È importante perché tanti anni fa Sono stati fatti degli studi E è stata certificata una qualità dell'aria eccellente Grazie alla biodiversità dell'ambiente All'esposizione al sole, all'altitudine Ci sono delle concentrazioni di terpeni Di monoterpeni Che sono assolutamente benefici per le persone E garantiscono un benessere sia fisico che psicologico Il parco del respiro È un affai della Paganella E è assolutamente uno dei punti Che maggiormente le persone stanno cercando negli ultimi anni Il parco del respiro cos'è? Perché si respira bene Ti prendono la pressione? No, il parco del respiro Beh, questo nome innanzitutto è stato dato pre-covid Tanto da Perché non E è stato azzeccato Nel senso che in un momento in cui L'importanza della qualità dell'aria eccetera Si è sentita maggiormente Le persone hanno sentito più il bisogno di uscire Noi avevamo appunto queste certificazioni di questo parco Dove Grazie alla biodiversità Quindi alla ricchezza della vegetazione Si riescono a fare proprio dei bagni di foresta Come si chiamano Abbiamo visto sì il lago di Molveno Con le barche a motore I pedalò elettrici E qui invece siamo ad Andalolife Andalolife è il centro sportivo più grande del Trentino in assoluto Dove su un pianoro a pochi passi dal centro del paese Si concentrano tutte le attività sportive possibili ed immaginabili E le strutture per i bambini per giocare E qui invece siamo più in quota Sulla malga sopra il lago di Molveno Abbiamo tante malghe e fattorie didattiche Dove i bambini proprio possono stare Sì questo è il sentiero Sciuri È un sentiero didattico sopra il lago di Molveno Grazie Francesca Ha parlato di montagna che vive tutto l'anno E ho detto prima nella Valle di Fiemme Che ha tre stazioni sciistiche invernali importanti Cermis, Pampiago e l'Alpelusia-Bellamonte Ha una storia dello sci di fondo unica Nel panorama sportivo delle Alpi Ha in realtà turistiche importanti Ha in realtà economiche di aziende legate al territorio Ma anche l'autunno Che normalmente era un periodo di bassa stagione Giusto? Finito agosto la gente spariva Adesso c'è anche un tipo di turismo Legato anche a un'offerta autunnale Giusto? Quindi per questo la montagna vive tutto l'anno Lo possiamo dire E noi in Trentino la chiamiamo bella stagione Perché bassa stagione è brutto Sembra una roba un po' così bruttina Cippe, no? Sì brutto, basso Diciamo le belle stagioni Perché in realtà la primavera e l'autunno In montagna sono delle belle stagioni Perché è questo un insegnamento Che magari ci ha portato il Covid Abbiamo imparato a vivere queste stagioni In modo diverso Qui vedete l'autunno in Val di Fiemme I colori sono veramente spettacolari Degli alberi Non solo le vigne Ma anche tutte le nostre montagne Le attività da fare sono tantissime Perché la quota, come dicevo prima, è mille metri Quindi ti permette anche di fare passeggiate Senza dover andare sulle cime Che magari fa più freddino Stando a mezza quota A bassa quota I rifugi sono aperti Un po' come è successo in Alpaganella Diciamo noi ci allunghiamo un po' più Verso l'autunno Anche per tutti gli eventi enogastronomici Che abbiamo insomma E arriviamo fino a circa la metà di ottobre Anche con tutte le attività Secondo me è una montagna diversa Una montagna che Ha dei colori diversi È uno spettacolo per gli occhi È un foliace diverso Ci si veste un po' di più Come vedete qua nelle immagini Però è una montagna Secondo me è spettacolare È una cosa che forse Negli anni passati abbiamo un po' sottovalutato Vivevamo la montagna a luglio-agosto Che sono i classici mesi Ma io vi invito proprio a scoprire la montagna In settembre, inizio ottobre Ci sono veramente tantissime cose da fare Da gustare Noi abbiamo a paneveggio i cervi I cervi vanno in amore Quindi c'è il bramito dei cervi Ci sono tante cose Che sono proprio particolari E di questa stagione Proprio per questo Che non è una bassa stagione Un'estate un po' brutta Ma è proprio una bella stagione Perché è una nuova stagione Che abbiamo scoperto E così anche un po' la primavera Lo fate sempre Scusate una curiosità Il World Wellness Weekend Il WWW Lo fate sempre quest'anno? Ecco di questo Non abbiamo Diciamo non ho un'immagine Del benessere Che noi vorremmo rappresentare Mal di Fiembo O meglio È in tutte le immagini Che abbiamo portato Quello che noi vorremmo fare È diventare La valle del benessere Il benessere Inteso a 360 gradi Non solo Saune Centri benessere Questo certamente In autunno È un ottimo Diciamo Argomento di vacanza Però il benessere Nella natura È sentirsi bene Infatti il nostro La nostra claim di quest'anno È Qui sto bene E questo è proprio quello Che noi vorremmo Trasmettere ai nostri ospiti Ma trasmetterlo veramente Stando prima bene noi Come persone che abitano Il territorio E trasmetterlo così Ai nostri ospiti Quindi Uno stare bene Proprio a 360 gradi Nella natura Sia facendo attività fisica Sia provando Tutte le nostre Esperienze Quest'anno faremo parte Del World Wellness Weekend Che è questo evento Che avviene in tutto il mondo E parla proprio Il calendario Quando è che è quest'anno? È il terzo weekend di settembre Allora prenotto Metto già nella lista Va bene Ti aspettiamo Ok Allora Però chi sta bene in montagna Parliamo di attività sportiva Deve stare bene i bambini Le famiglie E voi in alta quota Tu Flavio Gestisci La parte Degli impianti sciistici Ce ne avete tre Come abbiamo detto Il Cermis Cavalese E l'Alperusa Bellamonte In alta quota Avete fatto parchi Attività Perché sì Si va in alta quota Sì Lo sportivo cammina Va nel Latema Va nel Lago Rai Ma i bambini Vanno a divertirsi Quindi vi siete inventati Dei parco giochi In alta quota Che Generalmente Sono a metà quota Non sono proprio in alta quota Però diciamo In tutte le stazioni Sono presenti Ecco Ho parlato prima Del villaggio dei racconti Del Cermis Del Latemarium Diciamo A Pampeago Con Respirart La montagna animata A Predazzo E naturalmente Anche la Bellamonte Anche diciamo Andando sull'Alpelusia Nel versante Di Bellamonte C'è un'offerta Incredibile C'è un'offerta Diciamo Molto importante Si chiama Fra Inus Il percorso didattico Diciamo Che parte da in cima E arriva fino alla stazione Di partenza E fa riferimento A diciamo A tutto quello che vola Nelle nostre montagne Quindi I bambini O le famiglie Potranno scoprire Diciamo Dove vivono Dove vivono I volatili Diciamo Sulle nostre montagne E poi c'è Il più importante Giro Dali Che sfruttando L'acqua Sfruttando Diciamo Le materie prime Quindi l'acqua I sassi E naturalmente I prati Il terreno Il terreno ideale Che c'è A metà quota Diciamo Nella stazione intermedia Degli impianti Di Bellamonte Offre un divertimento Che di anno in anno Si amplia Che di anno in anno Diventa sempre più importante E di anno in anno Posso dire Diventa sempre più Gradito dagli nostri ospiti Questo scusami Questo che vediamo Allora voi D'inverno Siete famosi Perché infatti Il Dolomiti Schigez La musica nera Sullo sfondo bianco Esattamente E questa è la prosecuzione estiva? Questa non è la prosecuzione estiva Diciamo che come musica Ci siamo Ecco come In inverno Chiaramente È identificato Come jazz Questi sono i suoni Delle Dolomiti Che sono organizzati In tutto il Trentino E hanno Sposano Diciamo Tutti i generi Musicali Dal jazz Alla musica classica Ai cori di montagna Quindi Noi nel mese di settembre Ne organizziamo Quattro Nelle nostre Nelle nostre Diciamo Facendo riferimento Agli impianti di risalita Quindi All'Alpe Cermis A Pampiago E All'Alpe di Lusia E organizziamo Quattro Quattro concerti Diciamo Che ci porteranno Verso Il fine della stagione Anche se Come diceva Marisa Prima La stagione La bella stagione Andrà avanti Fino a ottobre Sicuramente Al ponte Dell'Immacolata Si già si scia Mentre Gli impianti di risalita Anche perché Devono prepararsi Poi per l'inverno A fine settembre Chiuderanno La loro attività Il ponte della vittoria Il ponte dei morti Ma non si dice Dei santi Si arriva fino lì Grazie a Flavio Per questa presentazione Quindi in alta quota Si diverte Famiglia Anche voi Io sono rimasto scioccato Perché ad Andaro Ci avete 60 alberghi Giusto Tutti e tutti Aderiscono Al progetto Della famiglia Activity per i bambini Giusto Non tutti Però abbiamo Una fetta Di 20 family hotel Ben 20 family hotel 20 che hanno raggiunto Dei livelli altissimi Tant'è che ogni anno Sono pluripremiati E raggiungono Dei ponteggi elevatissimi Dai vari Dai vari siti Appunto Di vendita Alberghiera E questi hotel Hanno Sono delle strutture Incredibili Ma quello che Che sicuramente Spicca È l'accoglienza Che viene data Ai bambini Perché non si tratta Soltanto di avere Degli asili Degli acquaparca All'interno degli alberghi Dei parco giochi Straordinari Di gestire il ristorante In maniera Proprio adatta Ai bambini Di tutta l'età Ma si tratta Ma si tratta anche Del modo Della voglia Del desiderio Di far sperimentare Alle famiglie Ai bambini Alle bambine Una vacanza Autentica Genuina E di farli sentire Proprio come Dei veri local Dei veri abitanti Del Trentino Ma se i bambini Sono contenti È il contento Della famiglia Infatti I bambini Sono contenti Lo dimostra il fatto Che ritornano Ogni anno Tant'è che abbiamo Un tasso di Fidelizzazione Dell'ospite altissimo E allora Se un ospite Ritorna E c'è un grandissimo Passaparola Significa che l'ospite È stato Assolutamente bene Che i bambini Si sono divertiti Abbiamo Tanti parchi In quota E in paese Uno dei Nuovi nati Qualche anno fa Che secondo me Però ha un valore Aggiunto È il parco Che riproduce In piccolo Il parco naturale Da Mello Brenta Si chiama Sarnacli Mountain Park E abbiamo visto Prima delle immagini Viene riprodotto Il rifugio Pedrotti E io vorrei rimandare Le immagini Proprio Il flow panorama Perché voglio far vedere Il panorama Che ci si gode Dalla Paganella Prego la regia Di trovare la clip Che è l'ultima Che abbiamo inviato Che ci ha proprio portato Prima della registrazione L'amica Francesca Ecco qua La Paganella Ha un panorama straordinario L'abbiamo detto prima C'è anche una canzone Che lo dice Non è che ce lo siamo inventati Solo noi E turistiche Che canzone è che è Paganella De Pubele In Trentino Diretto vostro Diretto nostro E addirittura Osano dire Che dalla Civa della Paganella Si vede anche la Madunina Vabbè Io questo Non l'ho mai visto Io ho visto Poi però Poi hanno guardato Verso il Latemar E si sono fatti un dubbio Fanno un mudo di domanda Se la cantavano così Poi hanno guardato Dall'altra parte E hanno detto Ma vabbè Insomma si vede Che siamo tutti belli Che dice Che la Paganella Ha questa vista straordinaria Ma è vero Ha una vista straordinaria Ma non è solo la vista Perché tutto il Trentino Tutta la provincia Ha queste vette Che ci permettono Di spaziare In panorami ampi E sono anche Il servizio E la cura Che nel tempo Gli operatori Hanno avuto Dell'ambiente E tutto quello Che è stato costruito Affinché la vacanza Si possa vivere A pieno Con la bici Con il trekking E tutto il resto E non solo Comunque La Paganella Mi sono distratto Perché in effetti Io l'ho visto Si vede Il lago di Garda Anche Oltre che Molveno Abbiamo visto Il lago Dalle immagini Si vede Molveno Ma sotto c'è il lago di Garda I laghi appunto Della valle di Trento E poi si vedono Anche gli appennini Si vede tutto Lo smoglio Della penura padana E poi si vede Sullo sfondo Anche l'appennino Questa è una mia Testimonianza Che ho avuto modo Di godermi Una bellissima giornata Di bel tempo Sulla Paganella Siamo quasi in chiusura Un riassunto finale Marisa E poi Flavio E Francesca In questi pochissimi minuti Che rimangono Intanto ti ringrazio Di averci ospitato E ti invito A tornare In Val di Fiemme Per godere altre Altre esperienze Io vi invito A visitare la montagna Anche nelle belle stagioni Perché ci sono Dei colori Degli spettacoli Che non vi aspettate Quindi ci sono tante sorprese Da noi potrete vedere Ma come penso Possa confermarvi Anche Francesca Tante cose Fare tante esperienze Ci sono tanti eventi Che ci portiamo avanti Nella nostra tradizione Che vi aiuteranno A capirci un po' meglio E soprattutto Vorremmo trasmettervi Il benessere Che noi viviamo Ogni giorno In queste montagne Affinché poi Ritorniate A casa Rigenerati Insomma Tutto quello Che vi abbiamo detto La Valle del Benessere Io la chiamavo La Valle di Fiemme Valle Viva e Valle Verde Adesso aggiungiamo Valle del Benessere Sì esatto Tutto quello Che vi abbiamo detto In questa corposa puntata Forse abbiamo detto Tante cose Non ve le ricordate tutte Le trovate sul nostro sito www.visitfiemme.it Trovate appunto Gli eventi Le esperienze E tutte le cose Che potete fare Anche quelle che oggi Non siamo riusciti a dirvi Quindi Grazie Floriano E grazie a tutti I telespettatori Flavio Due parole Di chiusura di saluti Due parole Ecco noi abbiamo Siamo animati sicuramente Da uno spirito crentino Ci mettiamo molta passione Nel nostro lavoro Speriamo di avervela Trasmessa Un attimino Ecco questa passione Poi vuol dire servizi Vuol dire attenzione Vuol dire cura Per i nostri ospiti Ecco Noi speriamo Che venite a trovarci Come turisti E andate via Come amici Questo sarebbe Questo sarebbe il massimo Io ho avuto Ho avuto questa Posso testimoniare Posso garantire Che è vero Che dice Flavio Si va come Io andavo per lavoro E si torna come amici Voi andate Andate come turisti E tornate come amici Testimonio E do ragione All'amico Flavio Del Vai Grazie Flavio Salutami Gli amici Giulio Luca E Piero Gli amici degli impianti Della bellissima Non mancherò Della Val di Fiemme Francesca Un saluto finale Mi riaggancio Alle parole di Flavio È vero Noi abbiamo Un amore Una passione Per il nostro territorio E quindi Quello che cerchiamo Di trasmettere E quello Che desideriamo Veramente raggiungere È il benessere Delle persone Che vengono A visitarci Le opportunità Sono molteplici E davvero Si può spaziare Da un tipo Di vacanza attiva A una vacanza più slow Dal mare Alla montagna Dal lago Il mare Perché Il lago di Molveno Dicono Sembra quasi Un mare caraibico Sì Dal lago Alla montagna Alle cime Percorsi più soft Tante attività Per i bambini E le bambine Vi aspettiamo E maggiori informazioni Le trovate sul sito www.visitolomitipaganella.it Grazie Francesca Clementele Della bellissima Schiare Della Paganella Flavio Delvai Marisa Giacomuzzi Della bellissima Val di Fiemme Finisce qui Il tempo a nostra disposizione Puntata questa Come avete visto Tutta dedicata Alle vacanze estive Alle vacanze outdoor Alle vacanze in montagna Noi ci vediamo Alla prossima occasione Grazie a Stefano Andrea Matteo E Savino Qui dagli studi di Milano Per la regia E per questa Bellissima puntata Tutta dedicata Appunto Al turismo Alle vacanze E appunto E all'odor Noi ci vediamo Alla prossima occasione Sempre con S4 Il talk show di sport Ador.tv Il canale televisivo Dedicato al mondo Dello sport Vacanze e turismo Ciao E alla prossima occasione Da Floriano Moboni In collaborazione con Val Sugana Val di Fiemme Paganella Schi Dello sport Dello sport Dello sport Ciao Dello sport Dello sport